Happy Mother's Day, Mom! Tanti auguri a tutte le mamme, in particolare alla mia. Siete delle persone più speciali al mondo. È un ruolo importantissimo che per me è stato importantissimo nella mia crescita e nella mia formazione soprattutto di uomo e per questo la ringrazierò sempre. Per me è stato un punto di riferimento, un appoggio, lo è tuttora. Grazie a lei non sarei potuto arrivare dove sono ora. Siete degli angeli qua che ci supportano, che ci fanno crescere. Festa molto bella, abbiamo la possibilità di cercare le nostre mamme, quindi un augurio, un grosso abbraccio a tutte le mamme. Un bacione a tutte le mamme del mondo, la mia che è in Brasile. Un bacio, mamma. Ti voglio bene, mamma.